Musica Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui con me su One Piece Pirate Warrior ci stiamo per infiltrare a Impel Down come potete leggere e per cercare insomma altre informazioni su quello che sta succedendo sull'effetto che hanno questi dial sulle persone e quindi nulla grazie all'aiuto come già sappiamo dall'anime e dal manga con l'aiuto di Hancock riusciamo a entrare a Impel Down e vediamo cosa riescono a scoprire i nostri simpatici Mugiwara avete scelto voi Perona io ve l'avrei sconsigliata perché l'ho provata prima per fare salire un po' di livello perché sennò mi costava miliardi farla salire allora ho fatto una partita così veloce con lei infatti vedete no non è vero l'ho fatta salire con l'abilità quindi niente non potete vedere niente fa niente va bene tre cinque sette che schifo quattro sette dieci almeno dai no dieci 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 va bene mi ha tolto un'abilità qui ragazzi è l'unica che da dieci mi sa che è quella là in fondo che è già utilizzata va bene ah perché così diventerebbe da quattro eh no allora mettila qui scusa quindi metti un'altra mannaggia i fiori vabbè fa niente va bene così impostabilità no non potenziare la combo l'avevo messo a caso i danni dell'azione stile alleanza pirata l'indicatore si riempie più facilmente facciamo così alleato avete scelto nami no dire il vero si alleato avete scelto nami si si scelgo perona erano a pari voti sia perona che brook però c'era chi voleva anche come alleato perona e quindi alla fine ho detto beh a questo punto diciamo è stata citata più volte perona vi ricordo che appunto i cosi qui i personaggi li scegliete voi fate tutto voi io non faccio niente fate tutto scegliete tutto voi a vostra a vostra discrezione poi non vi lamentate se il personaggio fa schifo come come potrebbe fare in questo caso si puoi anche morire tanto qua però non lo so se vabbè si forse tutti ce l'avete presente ma comunque c'ha sti fantasmini maledetti che esplodono no non ha molta potenza fisica ecco anzi direi vero non ne ha proprio però va bene così e poi c'ha il teddy bear lì simpatico ah ecco quella cosa divertente che li manda in depressione con i negative hollow io spacco tutto ci tengo a ricordarvi che tra penso un paio di settimane inizierò a lavorare quindi non so cosa ne farò della mia vita si vedrà questo lo decideremo poi però insomma tra un paio di settimane inizierò a lavorare quindi sicuramente di tempo ne avrò molto 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 ditemi basta molto meno tempo vediamo se qui non ci sono tesori da prendere no allora andiamo alla massima potenza tesoro spacca tutto si se ci fosse qualcuno da uccidere sarei più contento se no qua non vado alla massima potenza non mi arriva Nami veloce niente ragazzi non riesco neanche a chiamare Nami e ve l'avevo detto è scarsa statizia ragazzi cioè non riesci neanche a chiamare l'alleato da quanto è scarsa ma vabbè che non c'era un'anima cioè nel senso che per beccare qualcuno da uccidere ci ho messo un minuto però 140k o che schifo è proprio scarsa ragazzi io ve la uso volentieri nel senso che l'avete scelta voi però più che fare 4 fantasmi vedete qua c'è il teddy bear che spacca un fantasma gigante vedrà il capo capo eccoti qua pigliati in faccia sto mega fantasma gigante non l'ho neanche beccato tutto sto casino non l'ho neanche beccato bravo kb no no il teddy bear adesso te lo rifaccio il teddy bear basta teddy bear oh territorio conquistato va bene e questo è fatto ora quello cos'è vita non mi interessa teniamola lì che non si usa mai proseguiamo la nostra strada verso lì di più ignoti yahoo cosa che devo fare ah il morale nemico si è abbassato ah qui c'è un'altra cosa bella lì no sentite dato che non posso far durare l'episodio 3000 miliardi ah il level 3 3000 miliardi di ore devo per forza cioè non per forza vado avanti non mi fermo a uccidere tutti i nemici già questa è lenta se almeno fosse un po' più veloce magari oh che botta sconfiggerei anche un po' più nemici ma dato che lei è abbastanza oh 50.000 questi sono buoni è abbastanza lenta eviterei di metterci no oh si di metterci troppo oh ce la fa adesso ah brava adesso sei andata alla massima potenza brava no no era quello che mi interessava perché se no oh 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 questa fa male falla ok vieni qui Nami soccorrimi dai bam 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 Nami è straforte guarda questa volta bam 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 faccio anche i versi tipo temporale non so se avete presente dai dai ma quello lì con il teddy bear che dava la s oddio questa è potente dove è il capitano bam dov'è di là di là di là andiamo 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 vieni 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 avanza 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 bravo adesso te la faccio in faccia se ora non lo becchi ti do le legnate eh oddio questa gli ha fatto male allora te la rifaccio nel dubbio almeno tanto l'avevo visto che c'era un sp più mille ecco lì non è morto vabbè poco male non so riusciamo a ucciderlo se magari lo beccassi sarei più contento muori mannaggia te muori oh ecco adesso si prende dove è l'sp sp più mille fantastico la vita non mi interessa proseguiamo oooola eccolo lì il cattivo che tutti aspettavamo Hannibal eccolo e io vado anche alla massima potenza Hannibal mi sa che ci vai anche tu però io sono più forte perché ne sono un sacco no no non come prima eh oh perona mi devi fare andare alla massima potenza dai non ci va non ci va ve lo dico non ci va è già scontato non ci va ve l'avevo detto che non ci sarebbe andata vai mi intesta il teddy bear si 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 fagli subito anche lo smega danza dello spirito esplosiva devastante yahoo ciao Hannibal bravo ritirati temporaneamente a vita questa qui oh missione completata bene le porte per l'ascensore sono aperte questo lo prendiamo si scende si scende addio mondo ci va il piano di sotto eccoci qua ok allora lì c'è il minotauro da scassare qui c'è tutta sta gente che non so se sinceramente devo battere se non mi colpite è anche meglio aspettate un secondo ha preso l'ascensore l'ascensore qui si passa qui anche se riesco a evitare di battermi con chiunque è meglio cioè vado secco al minotauro che così evitiamo di perdere troppo tempo qui non ci sono tesori eccolo vedi c'è sempre un tesoro basta trovarlo minotauro dove sei dove andà eh c'è anche Magellan l'ho visto eh allora piano ecco arrivare Magellan ecco arrivare Magellan dov'è il minotauro eccolo dai sconfiggilo sconfiggilo vedi non ha ancora dato dai niente ragazzi non ci va cioè è inutile cioè posso anche provarci due ore tre ore e lui non ci cioè non ci basta diavolo è andato il minotauro fai sta roba va Che schifo 14k e basta No, 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 in teoria volevo fare così Quindi adesso Io attacco solo questi Perché sennò non mi fa la massima potenza Ecco, adesso che ho attaccato loro Spacco Oddio, oddio, questa fa male Non so come l'ho fatto a fa... oddio Cosa ha fatto? Come... come... ah, vai Oh, là Oh, ma il Minotauro è andato Bam, bam, bam Vai Nami, vai Nami Boom, questo fa male Oh, il Tornado, bello, mi piace Rifallo Grande, perfetto Cos'è che devo fare? Il Minotauro si ritira Mi apre le porte per l'inferno Ah, anche questo Oh, vai, vai Si sono aperte le porte Bella lì Così torniamo di sopra A scassare Magellan Eh, qui non c'è un... Un Treasure No Volevo andare alla massima potenza Ma vabbè Fa niente Adesso andiamo a prendere Magellan Vieni com'è Magellan Opla De qui De là De su Eccolo qua Il nostro tesoro Che ci darà la vita No, non è vero LSP SP Dove è Magellan Magellino Magellano No, non voglio te Magellano Eccolo qua Cioè, dire vero era già lì però E via uno Eh, sì, sì Tanto tranquillo Te ne faccio tra o quattro Perché adesso vado a riprendere le SP al massimo BAM Via due BAM Botta potente Aspetta, aspetta Adesso si va alla massima potenza Così io uso Nami BAM BAM Che fa più danno Non so più in peso Lei non fa niente Bravi BAM 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 Mi piace questo, eh BAM Vai Nami Oh Spaccalo BAM Anche questo Dai, vai Pesta solo lui Pesta solo lui Pesta solo lui C'è 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 Corri Muori Ammazza Spacca Devasta Distruggi Forse potevo fargli la Magellan Ah, l'ho beccato Vado Oh, l'ho beccato Sì, sì, sì Fagli questi Fagli questi Fagli questi E vai Si ritira Vado Quindi Adesso Se non sbaglio Bisogna andare In un'altra direzione Non mi ricordo qual è Forse devo tornare di là Forse devo tornare di là Aspettate Credo di sì, eh Non mi ricordo Non è che posso sapere tutto Comunque Andiamo Quelli sono tutti esaltati Io volevo qualcosa Che mi desse Lo stile Qua Tittiriti No Questo non me ne faccio niente Tittiriti Sì Si sono uniti al nemico Ok Rufi e nei guai Corri in suo aiuto Andiamo Non è il problema Via Qui Si può tirare fuori Do Il comandante è apparso Bene Ecco arrivare di nuovo Il minotauro Dov'è Rufi? 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 Vabbè Dove diavolo sei Rufi? Ah eccolo qua Aspetta Vai che ti ho aiutato Sì Sì Ah Mi esplodi Spaccalo tutto Babbè Sì 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 Ah Quanto sei scarso Capo Mi ha dato un pugno Questo Non mi dare pugni Ah Ma ti ho detto Che devi fare così Eccolo Esplodi No Non l'ha fatto Ah c'è anche il minotauro C'è un minotauro Sì Adesso ti sconfiggo Stai calmo Allora Bisogna stare calmi Sto gioco eh Che io sconfiggo tutti Però voi state calmi Se no Non andiamo d'accordo Tipo Tipo Ti devi dare una mossa Perché se no Come al solito Dai Vai Esplodi Sì Vai Oh Per un pelo Conquista sto territorio Oh Bravissimo E adesso Dov'è il minotauro? Bravo Eccati qua il minotauro Così mi piace Bam 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 Mio ti faccio male Fisico Morale Psichico Babam E vado di nuovo A sconfiggerti Sono troppo forte Il minotauro è andato Credo È sparito Però non so se è andato Oh Tesoro individuato Figlia questo Il minotauro è andato Sì Morite tutti Dai mi avete rotto qua Allora Adesso che abbiamo fatto questo Oh Che cavolo è successo Non ho capito Vabbè Tipo Quello lì può morire Facile Tanto c'è Puoi morire Dai Grazie Eh Si aprono i portoni Di questa grande città O no Perché io mi sono stancato Di stare in sto posto Ho sconfitto Il minotauro Fammi aprire ste porte Dov'è Dai Su Dendi chi Dendi là Tatara da Oh Magellan sta difendendo Il laboratorio Apri le porte I prigionieri hanno fermato Hannibal Bene Sì Ah lì c'è un altro tesoro Questa profonda Ah Intanto io prendo il tesoro Mi dici cosa devo fare Eh mannaggia i trichechi Maledetti Dai tacchini Non ho capito Cosa devo fare Se me lo dicesse L'avrei già fatto Però Non me lo dice Non credo di dover conquistare Tutti i territori Eh ho capito Che lì è Magellan Però Se non mi dici Cosa devo fare Andrò a conquistare L'altro territorio Ah forse Devo aspettare Rufy Rufy qua e qua Qua e qua Eh no Andrò a conquistare L'ultimo territorio Ah no 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 Dovrò sconfiggere Hannibal Hanno fermato Hannibal Ma non l'hanno sconfitto Sti schifosi Però mi sembra strano Aspetta scuse Informazioni battaglia Eh Sì Sconfiggi Magellan Grazie Grazie Ma va Lo sapevo che dovevo Sconfiggere Magellan Se però Non mi dici Come ci arrivo Da Magellan Nel senso che La porta è chiusa Non è che io Me lo invento Eh Non è che passo Nel fuoco Dai Hannibal Spera di bal Adesso Aspetta che vado Alla massima Potenza Bravi Così Bravo Che gli fa male Questo Sì Vai Brava Nami Vieni qui Adesso Guarda No No Per abitudine Ho saltato l'evento Vabbè Fa niente Non so cosa succedeva Giuro Eh Abitudine Che lo salto nei miei Perché non mi ricordo Che succede qui Però vabbè Nami Uccidilo prima che Si Finisca la cosa È ovvio È finita Ovviamente Finita Dai Oh Ecco Hannibal si ritira Adesso Non ne voglio sapere Lì si devono aprire le porte Cosa c'è qua Questo mi serve Adesso si devono aprire le porte Per forza Corri tra l'altro Perché ho 4 minuti E spero che tra 4 minuti Finisca Corri Dai Corri KB Tra l'altro starà durando Tipo un'ora Sto video Un'ora e mezza Due Tre Rufi è là dietro Ancora che Soffre come un dannato Vuoi Distruggere Sti 4 Balordi Non c'è più nessuno Cioè mi devi aprire Queste porte Cioè non hai alternative Sono Sì Sì Non me ne frega niente Che sei la Principessa Fantasma Mi devi aprire Sta porta Eh tentativo di fuga Qua io perdo Ve lo dico ragazzi Corri in aiuto Corriamo in aiuto Corriamo in aiuto Tanto qui è sempre da correre in aiuto Io corro in aiuto Però Mi devi Assolutamente Aprire quel cancello Non so cosa devo fare Cioè non me l'ha scritto Più che altro Non mi ha scritto Conquista tutti i territori Aspetta Aspetta Allora Vai all'inizio Ecco arrivare Magellan Ecco il Virgionieri TTT Minotauro si ritira Ecco arrivare di nuovo Minotauro Ecco arrivare di nuovo Magellan Le condizioni Eliminare Le condizioni Sconfitte Attenzione al tempo Ecco arrivare di nuovo Hannibal Sì signore Hannibal sta avanzando Verso il tesorio del disolato Morale dell'attività TATARATA Che dia Il nemico è stato Hannibal si ritira Però una sconfitta Tesorio del disolato Vabbè Ragazzi perderò Perché qui non si aprono le porte Non so cosa fare Cioè io sono qui Da due ore Non lo so Cioè Non mi dice Se mi dicesse Cioè non è che nel mio Nel mio l'avrò fatto Eh ho capito Impel Down Chiude fra tre minuti Nel mio l'avrò fatto Se Elimina velocemente Magellan Ma mi devi aprire la porta Come elimino Magellan Forse devo conquistare L'ultimo territorio Io corro Fin là Però Non credo di farcela A questo punto E a questo punto Mi sa che Il prossimo episodio Guarda questo Dai Corri almeno Oh Sono l'altra Già a metà Però Dai Fai male Fai male Fai male Fai male Mannaggia i fiori Mannaggia i fiori Mannaggia i fiori Dai Nami Spacca tutto Distruggi qualunque cosa Perché non ho preso come alleato Ruffi Lo so solo io Ruffi fa 30.000 Ruffi fa 30.000 Subito Subito via Subito via Prendi almeno questo Dai E mo Però non mi ha aperto le porte Ragazzi Sono ancora chiuse le porte Ragazzi Io come faccio a sconfiggere Magellan Ruffi è nei guai Ho capito Ma non mi ha aperto le porte Ragazzi Non mi ha aperto Probabilmente O si è buggato O si è buggato In kill down Chiude fra un minuto Io l'ho capito Però Non è Non Cioè Non è Non Capito Si è essere buggato Eh no Non le apre Ragazzi Non so perché Non me lo chiedete Non so perché Non apre le porte Ah grazie Eh beh Oh dai Grande Oh sei forte No no Sei gentile allora Cioè Potevi aprirle tra un paio di minuti No Mezz'ora che sono qui Ci sono anche passato davanti Non è che dici No no Non è passato Dici vabbè Fa niente Allora se l'hai cercata No No niente Cioè vabbè Niente Cioè il prossimo episodio Ragazzi lo rifarò Ovviamente non comperò Non userò Brook Così siete contenti Li ho usati tutti e due Però spero che mi apra Le porte Perché non me le ha aperte Non so se avete notato Ma sono stato anche Sono passato anche da davanti Perché ho detto magari Eh grazie In kill down Ho chiuso Vabbè Fa niente ragazzi Questo episodio finisce così Uno schifo Non so perché Non me lo chiedete Non le ha aperte Probabilmente era buggato Perché non dovevo conquistare il territorio Perché se no le avrebbe aperte Quando ero di là E nulla Vabbè Ci si vede come al solito Con i prossimi video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti